Simone, oggi grande vittoria è deciso dal tuo primo gol stagionale. Sì, sono molto contento per questo gol e anche per la squadra perché siamo riusciti a fare tre punti importanti in questo campo dove non è facile fare dei punti, quindi sono felice di aver realizzato io il gol vittoria sia per me che per la squadra. Nel primo tempo, così ogni d'ambo le parti, poi negli ultimi dieci minuti avete spinto di più e poi nella ripresa avete iniziato come avete finito il primo tempo, sempre in attacco senza essere provai veramente pericolosi e poi finalmente avete sbloccato il match all'ottantanovesimo con il gol. Sì, siamo stati molto bravi anche con i cambi, soprattutto i ragazzi sono stati bravi a cambiare la partita e un merito magari va anche al mister stavolta, spera prossima, vedremo dai. Esatto, anche tu sei subentrato, ricordiamo, a Canaparo nella ripresa. Sei un giovane ma a Solari sappiamo che è uno di quegli allenatori che dà tanto spazio ai giovani non solo per le regole messe dalla federazione e anche in questo campionato hai sempre fatto il tuo quando sei entrato, quindi complimenti. Grazie. Domenica la San Margheritese si ritorna finalmente a casa. Sì, si ritorna, quindi veniteci a vedere tutti a Cairo alle tre. Complimenti Simone, bocca al lupo. Grazie. Grazie. Grazie.